Il Restitution Day si concretizza anche in terra lucana. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Leggeri e Perrino hanno deciso di destinare alle scuole pubbliche secondarie lucane 140.000 euro. Un ammontare accantonato hanno spiegato grazie alla volontaria rinuncia alle somme relative alle spese di esercizio del mandato, nonché a parte delle nostre indennità di carica, fondi che finanzieranno non meno di 14 progetti. Una iniziativa, Facciamo Scuola, hanno detto che non vuole essere assolutamente uno spot elettorale, ma un'azione di buona politica. Con ciò intendiamo lanciare un messaggio anche ai nostri colleghi consiglieri. È arrivato il momento di tagliare le indennità. Se l'iniziativa fosse stata condivisa da tutti gli altri consiglieri regionali e hanno ribadito i due esponenti politici, avrebbe raggiunto sicuramente dimensioni più importanti. Peccato che la nostra proposta di legge e zero privilegi, tesa alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica e alla tutela delle finanze regionali, presentata quasi un anno fa, non sia stata presa in considerazione.